Notavo che magari anche compagni di classe che non facessero sport di squadra gli vedevo e mi dicevano no, la doccia la faccio a casa. Ma io non lo notavo solo nella doccia, lo noto anche in tanti aspetti. Parlo di sempre comunque contesto di gruppo. Tu dici, se facciamo una calcettata, c'è tizio che non ha mai fatto uno sport di squadra è più a disagio nel fare una doccia tutti insieme perché non l'ha mai fatta. Dai, iniziamo, iniziamo, che so che dopo voi ci avete sta partita. Siamo lì. Balordi. C'è il partitone, poi oggi è anche fondamentale per il Fanta. Io mi sento tre contro uno perché sono l'unico simpatizzante interista, sono tre giuventini qua, che poi in realtà è molto facile tenere la squadra vincente. No, dire così. Sì, è molto facile fare per la squadra che vince. Come dire, sono cattolico perché... No, non la buttare, incacciare così. No, abbiamo fatto anche un po' di B. Vabbè, ho capito, però quanti anni avete, è stata molto più vincente la Juve nella vostra... Perché siamo più forti. Ho capito, però è molto popolare tifare saltare sul carro di vincitori. Noi abbiamo una scusa, siamo di Torino e tifiamo una delle due squadre della città. Questo è vero, tu sei livornese, però ha contrapiantato, quindi... Vabbè, vabbè, però c'è tante persone. Io che, diciamo che del calcio non sono poi così tanto avvezzo, cioè io lo seguo, mi piace, però io sono... Cioè, dentro di me il mio sangue è del basket, cioè per me è l'NBA, la passione vera è quella. Quindi anche il Fanta, cioè io non è che non lo concepisco per carità, però uno ti dice è un gioco, se lo vedi esterno, no? Poi magari quando uno poi ci va a vedere, perché io poi assisto insieme a te, no? Alle aste che fate, o magari anche la... come si chiama? L'asta, no? La cosa principale, così. Otto ore, una roba che... cioè, ma nemmeno in tribunale. Fanta calcio è rabbia, angoscia e vendetta. Fanta calcio, esatto. E gufaggine, vuoi fare contro la persona. La domanda è, perché? Beh, hai detto che è un gioco, non è un gioco. Fanta calcio è una battaglia. A parte che ci sono i soldi di mezzo e quindi non è già più un gioco. Ok, vabbè, è lì, ok, sono next level. Beh, io penso che la maggior parte di noi lo faccia per il momento dell'asta, cioè l'asta penso sia il momento più bello. E poi ti dà anche quella... Innanzitutto è anche un motivo di aggregazione, cioè magari ti trovi a fare il Fanta con gente che in un altro contesto non sentiresti spesso, però invece grazie al Fanta fai un gruppo su WhatsApp, ti prendi in giro, praticamente... Puoi giocare anche ad Osm sul cellulare, allora, col gruppo su WhatsApp. Eh, ho capito, però tu immagina commentare un Crotone Benevento alle sei di sabato sera, cioè... E quando ci sono cento cose più belle da fare e te sei lì a guardare una partita insulza. Sì, ma tipo, qual è la dinamica di un'asta? Tipo, perché è il momento più bello? Perché tipo io a volte, ecco, nelle loro che io assisto, che appunto io non ho mai fatto, però siccome mi piace proprio per l'aggregazione magari che crea, partecipo magari all'asta, poi li perdo, no? Vado all'anno prossimo e ogni anno dura sempre di più e ogni anno magari tipo l'ultima volta sono arrivati tipo tutti in giacca e cravatta, tipo sembrava una roba, ho fatto ragazzi, ma cosa sta succedendo, no? Sì, sì, tutti in casa di una nostra amica, tutti in giacca e cravatta con lei. Seudo manager. Io dicevo, ma cosa, che cazzo è, quest'anno è serio, quest'anno andiamo fuori i soldi veri. Che fai? Alla fine, no, ma avete pagato l'anno scorso? Fai, siamo in debito, però il prossimo anno vinco. Abbiamo avuto dei problemi con i pagamenti e questo è brutto. Ci sono vari livelli di serietà, no? Invece tipo tu lo fai serio, bro. Io ne faccio tre. Ne fai tre? Tre serie, tipo. Tre serie, uno con lui. Tre serie e tre non serie, bro. Infatti, c'hai il warm up e poi quello serie. Non vorrei gufarmela, ma ad oggi nel suo sono primo, su dieci. È il mio. È il nostro, nel senso perché mi ha inserito... Ed è per capire, tipo, questa serietà risiede in un costo di... No, la serietà risiede è innanzitutto nelle regole. Nel senso, ci sono tanti tipi di regole. Per esempio, una delle regole è il modificatore di difesa. Il modificatore di difesa consiste nel prendere dei voti aggiuntivi se tu schieri almeno quattro difensori. Perché? Se tu ne schierassi tre, tu devi fare una formazione da undici. E tu ti viene da pensare, per fare più voti possibili, faccio giocare più attaccanti possibili. Però diventa surreale. Cioè, se tu fai un 2-2 e poi tutti attaccanti, chiaro, non è coerente, non è fattibile. Quindi, più regole ci sono, per esempio, un modificatore di difesa, tu giochi con quattro difensori, che è qualcosa di, diciamo, credibile, e tu prenderai un voto in base alla media dei voti dei difensori. Così. Se tu capisci più che... Certo. E quindi più regole ci sono e più è serio. Per esempio, ci sono i campionati dentro i campionati per far sì che chi nelle ultime 5-6 giornate si trova in posizioni, diciamo, ultimo-penultimo, non lascia andare la sua formazione. Così penalizzando poi la coerenza, la fattibilità del campionato intero. Cioè, per esempio, se tu hai 5 giornate dalla fine... Perché non lascia andare vuol dire perché comporta che ogni settimana... Devi mettere la formazione. Magari se dopo 8 settimane sei l'ultimo... Sì, tu dicevi... Con zero chance di... Sì, io che non l'ho mai fatto. Spieghiamo cosa sia. L'ABC è l'ABC del fantacalcio. Spieghiamo, vai. Perché non è che tutti sappiano... Andate voi perché, appunto, io non l'ho mai fatto. Quindi in brevissimo, brevissimo. Allora, palcoscenico è tuo. Siamo in mediamente 8-10 squadre. Ogni squadra è capitanata da un fantallenatore. Poi, ovviamente, lo possiamo fare anche in coppie. Però una squadra ciascuno. Durante l'asta tu vai a comprare dei giocatori che vengono da più squadre della Serie A. Comprare, ovviamente, sempre con fanta... Con dei fantamilioni. Sembra molto a scherzo. Quindi tu cosa fai? Cominci e dici... Cominci e dici, ok, ci diamo 500 fantamilioni a testa. Con quei 500 fantamilioni ognuno di noi si deve costruire una squadra. Chiaramente la costruisco rispettando quali parametri o quali speranze andare a fare più voti durante le giornate. Più voti cosa consiste? Su 11 giocatori che io schiero, due mi fanno gol. Benissimo. Quei due giocatori, oltre al loro voto, dato dalla Gazzetta... Stiamo parlando del campionato italiano. Il campionato... Mì, proprio dovevo fare... Ok, il calcio è 11 contro 11. Guarda, io mi sono ritrovato a doverlo spiegare ad una mia amica, senza discriminare i sessi. Però è stato difficilissimo. Infatti, quando lui ha detto, spiego io, vai, vai. Più che altro, no, ma più che altro, penso che sia... Una volta che lo spieghi, dici, come perché faccio sta roba? No, ma poi ti rendi conto di omettere una serie di parti che sono fondamentali. Vabbè, io sto cercando di omettere... Cioè lui parla di giocatori, ma non specifica... Ma adesso non per... No, no, sto cercando di farla più veloce possibile. Però omette che si tratti del campionato italiano. Tu vai a prendere una rosa di giocatori... E che le partite sono quelle della Serie A. Esatto, aspetta. Tu vai a prenderti una rosa di giocatori tra le varie squadre del campionato di Serie A. Dopodiché, finita l'asta, ognuno di noi si trova con un roster, cioè proprio con una lista di giocatori, che poi deciderà di schierare durante i weekend, durante le vere partite di Serie A. Perché ogni giornata del fantacalcio... Equivale a ogni giornata della Serie A. Quindi, in base al reale rendimento dei calciatori nel campionato di Serie A, noi riceviamo dei benefici. Quindi, se Ibrahimovic fa una gran partita e la Gazzetta, quindi il suo voto reale, costituito dietro dai giornali, è 7, io prendo 7, poi se fa due gol prendo più 3. Ibrahimovic prende 7. E lui prende 7, quindi da a me 7 punti, più due gol, 3, più 3. Più gli altri dieci giocatori della tua rosa. Più la rosa. Certo. E chiamiamo avanti così. Ok, includendo questo, una domanda... Ma in quale giornale fate riferimento, scusami? Non noi, ma l'applicazione di fantacalcio fa riferimento ai voti che è la Gazzetta dello Sport. Quindi solo la Gazzetta dello Sport. Noi, per fare un altro esempio, facciamo riferimento ai voti che attribuisce l'applicazione stessa. Ah, è l'applicazione. Anche noi, forse. La nostra applicazione mi sembra si basi sulla Gazzetta. Però una volta... Ci riferiamo all'applicazione, però l'applicazione li prende dalla... Complicatissima. Cioè, te ti rendi conto... Ora che anche c'è... Anche spiegarlo. E c'è gente che comunque lo fa proprio anche a livello cartaceo. Sì. Quello è un core. Old school quello. Con l'Excel. Esatto. Una volta, qualche anno fa, si prendeva ancora la Gazzetta e ognuno andava a mettere il voto della sua squadra. Ah, madonna. Ti manca perché... Prendi il voto, metti i bonus, sommi i bonus, lo fai per tutte le squadre. Quello diventa un lavoro part-time in tutti i sensi. La cosa, secondo me, che rende il Fanta Calcio così bello e che ti porta poi anche a seguirlo durante la stagione è, in qualche senso, affezionarsi anche a quei giocatori che partono come underdog totali. Le scommesse. Le prendi, esatto. Le fai crescere. Le fai crescere, esatto. E poi magari l'anno dopo... Il giocatore ha fermato e dici, cavolo, il mio ragazzo. E poi mi fa morire che ci vedo spesso tipo messaggi, no? Tipo mandati magari alle pagine, tipo giornata tipo, queste cose qua. No, scusami, tipo quelle del calcio, non della serie, eh, o tipo... Assist di Achimico. Sì, ma no, ma anche magari tipo messaggi in direct al giocatore. Sì, sì, è vero. Ti ho al Fanta, cioè domani fai a morte. Non far cagate, sì, sì, sì. Cioè, delle robe folli e... E devi gestire la tua squadra. Il rapporto diretto con il giocatore è importante. Sì, nella serie a un giocatore di seriali fai, oh, facciamo 50-50 se fai bravo. Cioè, se fai bravo riusciamo magari a prendere quei, appunto, quei... Però è un movimento incredibile. 100 euro. Ecco, esatto, la serietà è anche dovuta dal monte premio. Quindi noi a testa mettiamo una tassa di iscrizione e poi finisce sempre in festa, in teoria. Dai. Beh, dai. Dopo un anno di coltellare. No, però in teoria un Fanta fatto tra un gruppo di amici dovrebbe finire... Ecco, io per esempio il primo lo vinsi. I miei amici pagano le vacanze. Io lo vinsi e feci la cavolata di... Io feci la cavolata di dire, ok, benissimo, ho vinto. Facciamo un aperitivo tutti insieme. Tutti quanti hanno portato le finanzate. Quindi mi sono trovato a spendere per il doppio delle persone. E mi sono bruciato. Lì, era un rischio calcolabile. Vabbè, però ho pregato. Non è stato un caso, eh, comunque. Hai fatto, vabbè, hai vinto. Ecco, perché, appunto, c'è magari tanto... Cioè, non tanta invidia, però è un... Ok, hai vinto tu? Va bene. Va bene, nice. No, dura un anno, poi lo sportò. Mi porto il cugino. Per esempio, Ricky è ultimo nel nostro... O sei penultimo. Ultimo nel fantacalcio. Primo nella vita. Perché poi, appunto, ci sono tutte queste psicologie interne di gruppi dove, allora, chi è ultimo deve rivendicare il suo... Ma io ho una vita sociale, no? Io non ci sto tanto. No, ma mi viene in mente a me. Esatto, per esempio, c'è quello che dimentica la formazione. Tu. Tu. È vero, io l'ho dimenticata due settimane fa contro di lui, lui da amico... Dai, adesso, ha qua un applauso, eh. Dai. No. Fai, fai, non toccare sta roba. Poi era questa roba qua. Ok, ok, perfetto. Si è dimenticato la formazione. Contro di lui. E lui da amico mi scrisse, guarda Paolo, devi mettere la formazione, altrimenti perdi. E io poi... Si sa una sportività. Perché c'è l'onore delle armi, proprio. Ah, proprio, no. Assolutamente no. Anche perché c'è la penalità, appunto. Quindi, cioè, c'è una regola, cavolo. Non è che ti puoi dimenticare. Cioè, vincevo io contro di lui e lui, che è il primo in classifica, prendeva sei punti di penalità. Tre. Sì, addirittura. È un bel mondo. Dovresti iniziare. No. Chissà se lo fanno all'estero. Non lo so. Sì, sì. No, no, no. Fanno? La cosa paradossale è che alle volte ti trovi a tifare contro la tua squadra. Sì. Magari tu hai un giocatore dell'altra... Incide tanto sul modo di vivere lo sport. Beh, per esempio, io avrei dovuto mettere un giocatore che fra poco gioca contro la mia squadra e non l'ho messo. E anch'io. Ma scusami, eh. Da neofita, perché all'inizio non scegli i tuoi giocatori? Perché siete in dieci. E poi non conviene. Perché se tu prendi la maggior parte dei giocatori che fanno parte della stessa squadra, se quella giornata lì, quella squadra lì perde, ti sei praticamente compromesso alla tua domanda. Ok, sì, però perché dici i singoli possono giocare... Sì. Ma poi se siete dieci partecipanti è comunque probabile che se sei un giocatore forte tu tutti e dieci vogliono prendere quello. Sì, però se simpatizzo, come dicevi tu, no, tu ti simpatizzo, non lo so, alla Fiorentina, sono magari dei... trovo tanti underdog della Fiorentina, non me ne frega niente, sono affezionato, li prendo. Però, come dicevo... C'è gente che qualche scelta di cuore è contemplata. Ma poi tipo mi fa troppo ridere anche la dinamica del tipo, non lo so, ah no, i grandi nomi, gli attaccanti dopo, mi assergo questi milioni, perché poi poi esce il nome a Lukaku 1, 1500. Guarda che ci sono calcoli di matematica avanzata che si provano in immagine. Poi c'è il presidente, c'è il presidente che è colui che si presenta con il PC e l'Excel. E quindi tu arrivi... Ale Canavezzi. Ciao Ale. E tu arrivi all'asta per gli attaccanti e quindi facciamo la resa dei conti, con quanti crediti sei rimasto, quindi con quanti fanta milioni sei rimasto e il più bravo è quello che si presenta agli attaccanti con un bel bacino di monete. Sai cos'è che mi viene in mente? Sai, è bello avere queste passioni perché nella vita è bellissimo, no? Avere delle cose e tutto. E quando in generale uno ha qualcosa a cui tiene tanto, tende a parlarne un po' con tutti. e magari nelle relazioni un fanta allenatore nella sua weekend di sabato e domenica è totalmente preso, no? Con la ragazza che dice, amore andiamo là, no? Aspetta che c'ho immobile che guarda, adesso dopo devo pensare che forse... Amore che cosa hai? Immobile ha sbagliato il rigore. Eh sì. Meno tre. Eh sì. Che poi appunto tu devi guardarti, devi guardarti, cioè non ti puoi guardare tutte le partite. No, ci sono le applicazioni fortunatamente, dai. Però devi stare attento. Il vero fanta allenatore te le guarda tutte. Sì, vabbè. No, vabbè, quello non è solo un fanta allenatore. Però tu devi stare attento. Tu un giocatore per squadra puoi averlo potenzialmente. Appunto, per quello ti dico, tu devi stare attento. Quindi se sei anche fuori a fare una passeggiata. No, no. Ma tu senti che l'applicazione ti dice, sai... Beh, tu puoi con lo smartwatch ti metti le notifiche della tua squadra o quella dell'avversario e se senti che vibra verso le tre e tre e mezza vuol dire che è successo qualcosa. Eh, e quindi come la gestita, cioè vi siete mai trovati, non lo so, in una situazione di... Ma io sono un po' contro quel genere. Sì, dai. Non contro, non ne fai parte. Allora, il genere di quei ragazzi, però penso siano quasi solo ragazzi che facciano un fanta caldo. Non ho mai sentito donne che lo facciano. No, abbiamo un amico. Non ho mai sentito, però... È vero. Ma anche per le moto, per le macchine. Sì, esatto. La passione. Capita, capita. Però tu dici... Ok, allora quindi è proprio il monotema che è... Eh, magari... Che non ti piace. Non ti lascio i nervi a essere ultimo. Ah, è vero, è vero. Forse perché per il fatto... Ma guarda, a me mette molta più ansia a farlo che non farlo. Ma tu però lo fai poi alla fine? L'ho fatto due volte, in vita mia. E in questo momento... Tu quante volte l'hai fatta, ad esempio? Eh, questo è il quarto puntuale. E poi se n'hai tre, quindi le fai tre per moltiplicare. Ma non tre perché mi hanno ficcato in mezzo. Mi hanno ficcato in mezzo, non ho saputo di fare. Eh, non potevi... Non potevi... Che devo fare? Che devo fare? Tra il primo che ho fatto e il secondo, c'è stato un anno in mezzo in cui non l'ho fatto. E ho notato che in quel anno in mezzo è stato molto... Ho vissuto meglio. Più leggero. Sicuramente con 50 euro di più in tasca. E guarda, per me vivere leggero, per il carattere che ho in generale, insomma... È importante. Beh, comunque il discorso che faceva lui non riguarda solo fantacalcio. Cioè, la mania su una fantacalcio. Come gestisci in una relazione l'amore per il calcio di per sé. O comunque per una partita di per sé. Una passione. Se tu sei appassionato, diciamo, allo sport in generale, hai una squadra, magari guardi quella partita, poi 90 minuti, le due ore e poi basta, no? Però per esempio hai una fidanzata... Non è che dedichi, sai, tutto il weekend. Però ascoltami, hai una fidanzata. È domenica pomeriggio. Sono le tre. C'è un sole che spacca le pietre. C'è la tua squadra. Cosa fai? Guardo la mia squadra, ma quella è la mia passione. Però finita la partita posso uscire. Boh, basta. Sì, sì, sì. Però dall'altra parte non viene capita. Vabbè, ma quello è diverso. È come se, nel senso, lei volesse andare, non so, a cogliere le margherite nel prato e... Però è difficile da spiegare a chi non la percepisce. Cioè, noi ci siamo cresciuti con quella passione. Non ho detto, tipo, cucinare, lavare. No, vabbè, non ci mancherà. Ho detto, cogliere margherite. Cioè, ci mancherà. Buona. Sì, sì, è una cosa che vorrebbe venire in mente a chiunque. Ma infatti ti pare. No, però è proprio lì il punto. Cioè, il fatto della settimanalità che ti dà. Poi tre fantacalcio vuol dire che te hai diversi giocatori. Non è che hai gli stessi tre fantacalcio. Giulio, io lo seguo una volta ogni mesura. Vabbè, però sei più esperto di qua, no? Quindi sei l'esponente del fanta in questo momento. Sì, però nel senso, ve la vivo tranquillamente, dai. Grazie alla tecnologia, cioè veramente, con un'applicazione tu ti controlli tutto. Eh, perché quegli old school che lo fanno a penna, a mano magari... C'è gente che lo fa proprio con piacere, credo. Sì, 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 sicuramente. Perché poi alla fine diventa una passione. Un libro sul cartaceo o leggerlo dal tablet alla fine, no? Anche. Forse quello lì è proprio per un feedback che ti dà il libro. Però penso sia proprio... È un impegno. È un modo di vivere lo sport, credo. Cioè, proprio... Sì, a livello di passione. È anche un input che ti dà anche la scusa di seguire il fine settimana delle partite. Sì, 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 sì. Un stimolo in più. Un stimolo in più, sì. E poi secondo me c'è differenza tra quello che si affaccia a una cosa del genere, ma ama lo sport e quindi mangerebbe veramente le partite. Oppure chi dice, aspetta, io qua ci faccio i soldi. Cioè, quindi per me questo... C'è anche quella figura. Eh, appunto. È una sorta di... Io non conosco un ragazzo che secondo me... Appunto. Non ne sono certo, ma secondo me è più in quell'ottica là. Sì, cioè... E non è che... Neanche dei soldi. Del fascino, dell'eccitazione di fare questa roba qua. Che non è dovuta ai soldi, non è dovuta alla passione, ma è dovuta alla dinamica. Quindi alla vittoria, alla passione. Anche noi nel nostro fantacalcio, cioè, abbiamo gente che dichiaratamente lo è, quindi... Che non gli frega nulla del calcio, ma... No, non lo seguirebbe altrimenti. Lo segue solamente con la scusa, faccio il fantacalcio, mi diverto a farlo, passo del tempo... Beh, io se devo scegliere il gioco, scelgo prima la mia squadra del cuore, piuttosto che la vittoria della giornata del fanta. Eh, vabbè, certo, perché appunto è una sorta... È la mia prima passione. È per quello, perché poi comunque, cioè, voi avete giocato a calcio, siete cresciuti con questa passione qua, per dirti io, se mi ci dovesse avvicinare, boh, ok, lo faccio, mi fa piacere, lo faccio, poi entrerebbe magari un po' una sorta di competizione in me, per cui lo voglio fare perché voglio vincere, non perché sono appassionatissimo, no, del... Però per i soldi invece è forse più un discorso riguardo le schedine. Sì, anche lì magari è una cosa che ti porta a guardare tantissimo il calcio, e lì forse lo devi guardare anche di più, perché lì magari... Devi essere molto più preparato, anche perché in molti guadagnano su campionati più remoti, cioè c'è chi gioca la serie B della serie svedese. Ma voi avete mai giocato schedine, non mi pare, siete mai stati addicted? No, vabbè, qualche volta. Io sempre per aggregazione, cioè magari trovarsi con gli amici e dai, mettiamo due euro a testa. È raramente addicted. Io ho provato una volta a mettere su un metodo durante una schedina, ho provato così, lasciamo stare. Ma poi anche secondo me è anche carattere, no? Cioè dalla serie, ok, ti provo a buttarmi con i miei amici, va male? No, esatto, sì, sì. E poi dipende molto, devi essere anche esperto, sai? Assolutamente. Io comunque come te, avendo avuto un passato diverso e lontano dal calcio, non è che mi intenda così tanto poi... Possiamo giocare l'NBA e te. Esatto. Quella è carina, però vedi come mi risulta più... Ah, che bello, no? Perché è la tua passione. Quindi dici, ah, cavolo, ok, quest'anno chi vince il titolo, ok, questo, quest'altro. Posso immaginare che dall'altra parte c'è qualcuno che dice, ah, quest'anno la serie A la vincerà lui, lei. Sai dove stai andando a mettere le mani. Sì, capito, quindi... E poi ti piace perché sai che tanto lo guarderesti uguale, magari. Però come è seguire uno sport che non è della tua nazione? Cioè, nel senso, voi seguite l'NBA, non seguite il basket. Lui segue molto più la Lega di me, sempre detto, da quando eravamo piccoli. Sì, però per un appassionato di basket, come dire, almeno in Italia, conosco molte più persone che seguono solo l'NBA e non il campionato italiano che il contrario. Però perde un po' di fascino. L'NBA? No, il fatto di seguire una Lega che non è della tua nazione, cioè... Allora, capisco, secondo me, insomma, posso capire il vostro punto di vista, che comunque abituati molto a seguire il calcio, anche se siamo in una nazione che... È a livello culturale. A livello culturale è molto diverso, insomma. Però il fascino dell'NBA è diverso. Qua il calcio è visto anche proprio come tifo, come la domenica vivo questo, quel momento, quell'ora e mezzo con mio padre, con i miei amici. La giornata anche. Invece l'NBA è molto più distesa, molto più... Almeno per noi oltreoceano, per virgolette. È molto più distesa, molto più diluita nel tempo. Poi hai 82 partite l'anno. Esatto. Per quello, secondo me, perde un po' di fascino, perché non hai la possibilità di fare una trasferta, non hai la possibilità... Sì, sicuramente è diverso. È diverso, però quasi... Il fascino ce l'ha tantissimo, perché noi abbiamo sempre fatto con lui, soprattutto appunto veniva sempre a casa mia, da quando siamo piccoli c'è... Le nottate. No, l'estate ci sono dei play-off. E i play-off sono alle 1 del mattino, 2 del mattino, quindi quando hai 16 anni... Cos'è? Aprile e maggio? No, no, no. No, tu c'hai giugno, c'è proprio il momento dove dipende poi a chi... Se vanno a gara 7, no? Tutti il quadrato che c'ha, però poi c'è le final... C'è una cosa proprio che aspetti e brani. Arrivare alle 2 di notte e iniziare a partire proprio... O avete proprio una squadra in cuore. No, vabbè, no, no, no. Tu dipende molto perché... Ma i giocatori magari. Sì, ma dipende molto perché comunque... Tu, cioè l'anno in cui ci fu l'Underdog, no? In cui ci fu Toronto, tutto questo così. Tra l'altro erano anche in America e tutto. Cioè è proprio bello vedere tutto il percorso che fanno queste squadre perché è molto più facile che magari ci sia questa... Una favola qua, piuttosto che il Leicester che vince... Io volevo dirti proprio questo, è Leicester. Un po' lì, Leicester. Perché io, a proposito di Underdog, a proposito di Leicester, ero a Londra quando vinsero la... E io mi recai in stazione lì a Kings Cross. Mi serve un vietto per Leicester. O non me lo voleva dare. Poi ci ho messo 5 minuti a capire che dovevo dire Leicester. Provare tutte le varie combinazioni. Lì, sì. Ma lui è cattivissimo. Loro quando non ti vogliono capire non ti capiscono. Sì, sì, sono bastardi. Però la cosa figa è che avendo un allenatore italiano... Parlato in inglesi. Bye, bye. Avendo un allenatore italiano, quell'anno raccolsero una marea di consensi dall'Italia. Massimo Ranieri. Grandissimo Ranieri. Claudio Ranieri. Claudio Ranieri. Ricordiamo Ranieri. Insomma i Pullman diventano... La macchinata ignorante partiti da qui per arrivare a Leicester e paradossalmente c'era anche il Masseo che adesso è il Masseo conosciuto. Ma lì era proprio agli inizi ed era proprio vestito da Gesù. E me lo ritrovai lì. Ma questo è troppo simpatico, troppo forte. Ed eravamo più italiani che inglesi e loro ci guardavano con la faccia. Ma questi che sono venuti a fare? Ma cosa sta a dire? Sì, che poi appunto anche lì tutto il culto che ha magari lo sport qua che noi fortunatamente siamo riusciti ad andare a vedere una partita NBA. Là te lo scordi. Cioè c'è quella sorta di urlo, invasione o disturbo senza sfociare nello schifo che magari sono sputi, insulti. Quello non è sport quella roba là. Però lo sfottò anche che ci sta nello sport. Magari in Inghilterra sono proprio diversi come concezione di... È vissuto completamente diverso. E quelli da italiani che si è arrivati. Gli hooligans erano comunque molto... Sì, ebbè è una riforma che hanno fatto. Eh, ho capito, però... Cioè, sì, sì, ad oggi, ad oggi... È vissuto proprio diversamente. Adesso c'è più un evento che comprende più momenti della giornata. Per esempio, in Inghilterra, come in Spagna, entrano allo stadio 5-10 minuti prima del fischio d'inizio. Però prima stanno fuori tutte le attrazioni che ci sono intorno allo stadio. pub, attrazioni... No, vabbè, nel senso di scherzi. Sì, 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 sì. Ma infatti... Tieno di roba da fare. Centro commerciale. Bellissimo. Ristoranti. Sì, e quello che ti volevo dire è proprio il fatto che non è nemmeno possibile dire la vivo in maniera simile anche quando ci sarò. Perché anche l'NBA, quando noi siamo andati là... Cioè, ti... A parte che appunto... Ecco, come è stato? Noi che abbiamo... Cioè, noi che ce l'avevamo sempre promessi di così. E tra l'altro, guarda, un piccolo rimpianto che non ce lo siamo più detti, ma c'era una pazza idea di andare a vedere l'ultimo anno di Kobe. Noi si era detto si voleva andare a vedere una partita. Eh, lì è stato... Cioè, eravamo troppo piccoli. Però se fosse stato oggi, nel senso, saremmo sicuramente andati. Dimmi. Ma è un mondo più sportivo. Assolutamente. Cioè, io adesso quando parlavi di Kobe mi ricordo... Beh, se lo meritava, ovviamente. Però un'ovazione ogni partita in qualsiasi stadio. Però questo poi l'ha ricevuto anche Totti, del Piero. Anche Cristiano quando ha fatto la rovesciata. Sì, però non lo so. Mi immagino da ignorante, perché conosco il basket, ma non lo seguo come lo seguite voi, che a differenza del calcio c'è un po' più di sportività. Cioè, non che... E penso che sia una Lega. È una Lega. È diverso. No, è l'NBA, esatto. È proprio per quello che... Essendo una Lega, e poi hanno avuto anni bui, cioè quando ci fu Ron Artest, cos'era? Il 2006? Eh, non lo ricordo. Forza 2004. Sì, hanno avuto anni bui dove appunto la gestione delle risorse umane ai giocatori, proprio perché le squadre erano tanti, i giocatori tantissimi, spesso appunto provenienti magari da un contesto culturale di un certo tipo. Tutta questa fama e tutta questa squadra, ci fu questo scandalo di Ron Artest che picchiò praticamente, andò a prendere le persone in tribuna. Cioè, è Ron Artest, che un suo gomito penso sia la mia testa, perché è brutto. Ah, per quale motivo? Perché lo avevano insultato? Ci fu una rissa tra due giocatori, lui andò a bordo campo e proprio perché in NBA tu tocchi il campo, cioè se sei in first row, no? La prima fila, tu tocchi il campo, uno rovesciò praticamente a Ron Artest la cola, la Coca-Cola, lui si girò, vide quello sbagliato e lui picchiò quello sbagliato praticamente, l'ho preso così e poi... I compagni sono intervenuti, non per separare, ma a favorire. E ci fu... Da lì è cambiato tutto. Lui cambiò tutto completamente, quindi proprio la Lega si impose di rifare completamente l'immagine e è cambiato tutto. Le medie oggi, a parte NBA Cares, loro ci tengono tantissimo, quindi proprio è una Lega, è proprio per quello che è diverso. Comunque è cambiato, a prescindere dallo sport, però penso che basket e calcio la fanno da padrone in questo concetto, questo per dire ok, guadagnano tanto, no? Gli sportivi. Io sentivo Prandelli, un ex, è un allenatore, è un allenatore della Fiorentina, che è stato anche dell'Italia, è nazionale, e faceva un discorso secondo me molto importante. Poco tempo fa, non tanti anni fa, era completamente all'opposto. Chi andava a vedere gli atleti, se lo poteva permettere, guadagnava di più degli atleti, ma non stiamo parlando di 300 anni fa, cioè nel senso è una storia recente. Quindi secondo me anche la mancata sportività, diciamo anche... Però questo in determinate posizioni dello stadio, credo, perché tipo quelli che stavano in piedi... No, però Rikki, era proprio così, cioè nel senso se tu vai a pensare magari, non lo so, prima della Prima Guerra, comunque... Ah, ok, ok, ok. Quando il calcio esploso... Adesso non ho dei dati di stipendi davanti, però comunque è un concetto che si è andato a modificare recentemente, cioè ad oggi è molto difficile trovare esclusi i presidenti, il patron delle società, trovare qualcuno nelle tribune che guadagni di più di uno dei calciatori e questo ha modificato tutta la percezione della passione e dell'appassionato. Noi siamo degli appassionati, ma prova a immaginarti essere stato un appassionato quando andavi a vedere uno spettacolo senza altro tipo di vincolo, cioè adesso tu vai a vedere l'uomo, vai a vedere Cristiano Nonaldo, lo vedi, oggi ha raggiunto i 500 milioni di followers fra tutti i social network, cioè vai a vedere... Nel 2019 ha raggiunto il miliardo con solo il calcio. Non vai più a vedere il calcio. Di dollari. Sì, sì. È sfociato in molti altri aspetti secondo me, chiaramente. È proprio uno spettacolo e poi secondo me questa cosa qua la vedi il cambio vero è quando purtroppo o per fortuna non sono nessuno per giudicare, però so che esiste il genitore che da piccolino ti sprona perché vuole che tu poi sia il prossimo calciatore che a 19 anni sfonda e ti fa un contratto da mezzo milione in serie B, in serie A, tutto il resto. Purtroppo è quello come dicevi tu cambia un po' la percezione della passione perché non c'è magari più il padre appassionato di calcio per cui dai, dai, dai ma c'è il dai, dai che poi ci svolti la vita a tutti, capito? Escludiamo il calcio, cioè nel senso teniamo il calcio e raggruppiamo insieme a tutti gli altri è lo sport in generale però il calcio accanisce molto di più perché in Italia se dobbiamo essere sinceri secondo me è il calcio è la cultura scusa, qual è lo sport nazionale? Il calcio quindi c'è anche nel basket però è più difficile che un padre dica dai che ne ero lega poi 4 milioni a stagione no, non funziona così tu puoi sperare un giorno di forse andare in un college americano quando c'hai 17-16 anni se sei proprio forte 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 puoi sperare da underdog di andare in NBA ma forse un domani generalmente prego credo generalmente il mondo del calcio è più ricco nel senso ci sono molti più campionati esatto parlo per il basket te punti all'NBA quindi chiaramente se arrivi in NBA grazie arrivo in NBA guadagno però anche se arrivi per dire in una serie acqua non ti aspettare che arrivi a quegli stipendi che trovi anche nel calcio tuo fratello è stato un professionista e tuo fratello è arrivato a toccare la Lega serie B serie B ma la sua serie B o la serie B di calcio a livello di esposizione mediatica a livello di stipendi è un altro mondo però io penso per continuare il discorso che dicevi tu dei genitori non è un incitare per far sì che di riffa o di raffa tuo figlio arrivi a guadagnare i soldi secondo me la loro volontà è molto più ristretta all'ambito socioculturale che li circonda cioè devi emergere fra questi 30-40 loro non li incitano solamente per arrivare in serie A e c'è una voglia di far emergere il ragazzo anche soltanto rispetto a quelli che sono i suoi compagni e gli avversari di quartiere e secondo me è ancora peggio perché un conto è se io ti incito perché ti voglio far arrivare al top del top del top ma rovinarti un divertimento per fare sì che poi tu possa dire se io sono più forte di te a palleggiare ma siamo in 30 miliardi di anni al mondo che sanno palleggiare sì sì ma poi appunto ci sono le generalizzazioni non vanno mai bene quindi appunto non è che è una lobby che fa questo fa quell'altro è magari un'attitudine che qualcuno è facile che ci possa cadere perché essendo lo sport nazionale molto ben pagato dove appunto effettivamente se a 17 anni sei molto forte è facile che qualcuno ti possa fare un bel contratto e tutto il resto può accadere noi l'abbiamo visto magari molto meno perché col basket non appunto è ridimensionato purtroppo perché io vorrei che fosse lo sport nazionale ma purtroppo non è così e quindi non lo so voi due avete giocato a calcio avete masticato un po' questi questi campi come magari avete avuto delle avete degli aneddoti delle cose che sono successe l'assurdo sono i genitori sugli spalti che alla fine ripropongono ciò che succede negli stadi quindi magari vai a vedere i bambini di 8 anni e di il padre di una delle due squadre che insulta il bambino di 8 anni dell'altra squadra incitando magari anche la violenza sì oppure già solamente dirgli vai ad attaccarlo che sbaglia vai che è scarso vai che è scarso questo succede un po' anche nel basket perché è proprio la psicologia che può andare come può prenderlo un bambino infatti è proprio quello il punto cioè se tu sei figlio poi magari di 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 questi eventi che purtroppo magari è tuo padre non lo so cioè può capitare tu poi la domanda di papà ma perché non so cosa potrebbe rispondere mio padre non l'ha mai fatto no se ne parlo perché certo sto parlando in generale cioè proprio il fatto che uno non può capire il perché perché non aiuti né tuo figlio e nemmeno no in generale il contesto della tua squadra quindi è un po' questo il vivere lo sport ti aiuta anche a cercare di capire queste robe e ma infatti è un movimento ineducato però magari andando avanti tante cose che insomma fanno anche ridere perché lì per lì ti rendi conto però cioè ti fanno anche tanto riflettere assolutamente molte volte poi vedi anche le foto di pagine su facebook che mettono i genitori si devono comportare però sapete non danno un regolamento per i bambini non danno per i genitori capito chi ci rimette sempre poi i bambini chiaramente perché prima tu stavi facendo un discorso punto punto a a portarti in A no ma se il ragazzo in A non ci arriva ah no è proprio quello appunto nel senso se non ci vuole andare se non bravo si esatto è proprio quello ma come dire non lo so può capitare ai sette anni devi fare uno sport intanto prova il calcio poi vediamo gli altri io non ho mai giocato a calcio in vita mia ma infatti scusami adesso mi viene in mente un aneddoto io mi sono iniziato ho iniziato a divertirmi molto di più quando ho smesso di giocare ho iniziato a giocare con i miei amici perché? perché non avevi la pressione dei tuoi dice oppure perché in generale no no non dei miei però nel senso del movimento in sé perché anche la squadra del paese per quanto cioè in senso a livello regionale era selettiva perché dovevate dovevate ma non stiamo parlando di una non voglia di competizione cioè noi non è che stavamo io e lui la pensiamo in maniera simile quindi parlo anche per te cioè non è che noi volevamo scappare dalla competizione dalla voglia di vincere quella c'è sempre ed è forse bella giusta però è l'esagerare e il forviare quello che è poi l'obiettivo principale allontanarlo dal divertimento totalmente metterlo solo in un'ottica di competizione però per fare una roba del genere un bambino che inizia a giocare a sei anni devi educarlo per fare quello cioè io nel senso per esempio ho giocato un paio d'anni nella Juve quando ero piccolo piccolo e c'era questo allenatore che lo chiamo allenatore e gli faccio anche un complimento chiamandolo allenatore si spacciava come si faceva chiamare Attila questo qua non ho problemi io avevo otto anni spero mi stia guardando no io la taglierei avevo otto anni giocavo lì eravamo in squadra in dodici giocavamo a cinque e mi tocca un po' dire sta roba e quindi è partita cinque contro cinque noi in dodici a due io ero uno di quei due ci dice adesso voi due andate per farvi la doccia tu non sai neanche se dire ma perché perché alla fine sei un bambino di otto anni pensi anche di aver sbagliato qualcosa ma non avevo sbagliato nulla perché dall'altra parte qualcuno ti direbbe però sei alla Juve devi non aver sbagliato in campo cioè aver sbagliato della serie mi sono comportato male perché mi stai punendo per qualcosa che io non riesco a capire io mi ricordo che sono uscito perché poi sono uscito prima degli altri quindi mio papà si sorpresa a vedermi uscire mezz'ora prima dicevi anche da gestire tu piccolino l'hai fatto di spiegare a tuo padre io sono proprio andato da mio padre gli ho detto guarda mia mamma ha andato via prima perché e mio papà mi ricordo che non ha saputo rispondermi perché ovviamente non c'era una risposta però quant'anni? 8 avevi? 8 anni mi ha detto stai tranquillo però ti è rimasto tanto impresso quindi è una roba che come dire manca manca proprio dell'educazione cioè deve esserci una consapevolezza che non sono degli allenatori ma prima sono degli educatori soprattutto a quell'età lì ti trovi a gestire un gruppo di 20 ragazzi bambini non tagliamola comunque no poi ti dico anzi guarda esatto esatto vabbè e dicevi tu sono 20 bambini di cui magari 10 si ritrovano anche il giorno dopo la mattina a scuola e quindi poi tu vai a creare dei meccanismi che vanno a completamente svalvorare bollismo alla fine mi bollizzavano un pochino eh sì ma vai a svalvorare tutto perché per esempio tu ti ritrovi a giocare ad allenarti la sera con gli stessi ragazzi che poi la mattina ce li ha in classe ok benissimo ma io perché devo essere emarginato perché non so palleggiare sì 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 cioè che vuoi è vero è il lato veramente brutto anche del vivere poi allo spogliatoio che comunque queste cose qua poi si riflettono su di noi quindi su noi piccoli che poi andiamo comunque da soli nello spogliatoio a vivere un momento insieme e quel momento comunque la condivisione che ci può essere in quel momento è relativa a quello che è successo sul campo assolutamente e poi tu ti devi vivere comunque sia la gestione emotiva di una cosa che non sono tue scelte quindi poi alla fine ti capitano magari perché appunto lui appunto solo lui lo sa perché dovevi andare a far la doccia e non potevi anche soltanto stare lì probabilmente il motivo è che ero più scarso di quei 12 sì ho capito certo però magari solo lui sai perché in quel momento lì doveva fartela pesare quasi in quel modo là perché comunque ti è rimasta tantissimo appunto è proprio quello però poi tu dipende poi da caso a caso è per quello che la generalizzazione non va bene però poi in spogliatoio potevi ricevere degli sfotto come magari sono successi e noi tutti fortunatamente abbiamo fatto sport di squadra quindi sappiamo il peso che c'è uno spogliatoio cioè perché quelli poi tre quattro volte a settimana però queste dinamiche sono innescate da persone che non sono bambini sì la dinamica da spogliatoio senza prendere quello che succede prima ci sarà sempre perché se c'è uno spogliatoio spogliatoio si dà anche tanto a livello di divertimento però poi rifletta anche queste cose qua come la maestra che discrimina nel senso il più bravo dal meno bravo dice facciamo vieni alla lavagna tu che sai farlo e quello che non lo sa fare è sempre discrimine sì però non lo so perché in un mondo di sport cioè in un mondo di squadra come lo sport cioè se c'era uno bravo noi giocavamo insieme poi giocavamo insieme a basket e se c'era uno bravo che ci portava poi tutti su ma beh ben venga durante la partita però c'era un senso di squadra sì sì ma l'allenatore comunque sia cioè poi appunto noi abbiamo avuto diversi allenatori quindi poi dipende però il compito che magari che ha è anche quello di tramite autorevolezza non essere autoritario ma essere autorevole quindi tramite l'esempio far capire ai ragazzi che magari quello più bravo è quello che ha da seguire come esempio quindi quello lì è un conto l'altro è proprio un trattamento preferenziale per cui ah lui è bravo lo può fare quello che vuole perché tanto poi la domenica mi risolve la cosa però qual è il rischio quello che vi dicevo prima cioè se tu pompi un ragazzo un ragazzino di 12 11 anni e gli fai credere che può spaccare il mondo che può vivere di prepotenza semplicemente perché in un gruppo di ragazzi mediocri perché o stiamo parlando del Real Madrid ma neanche ma quell'età lì il corpo è in evoluzione quindi sei tra ragazzi ok poi vai seguito bene eccetera eccetera però ripeto il pompare l'esaltare un ragazzo troppo piccolo soltanto perché è più bravo a giocare avere un tocco di palla diverso però poi cavolo quel ragazzo lì se poi non sfonda quello che vi dicevo prima io ha vissuto degli anni importanti fondamentali di prepotenza dove era convinto di poter spaccare il mondo semplicemente perché sapeva fare una cosa più degli altri o semplicemente perché era cresciuto un po' prima degli altri bravo però cavolo poi dopo cadirà più alto questo è l'altro lato della medaglia in senso sì che poi non è detto che accada ovviamente però può capitare poi entriamo anche in un tema d'esempio scolastico nella quale i ragazzi che sono sempre stati considerati dei talenti nello sport abbiano trascurato maggiormente nel calcio abbiano trascurato poi l'aspetto scolastico io mi ricordo che avevo io in classe avevo in una sì un anno quando cambiai 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 classe avevo uno ragazzo che giocava in nazionale e lui aveva proprio un certificato dove lui poteva cioè la maestra sapeva la maestra la professoressa sapeva che se lui era impreparato quel giorno là probabilmente perché tra nazionale tizio caio e sempronio lui non ha non ha potuto studiare per cui insomma c'era questo trattamento si percepeva io però non lo vivevo come ah invidia ma era un oh è grande cioè nel senso capito è diverso come l'hai vissuta prima ci sono tante sfaccettature quindi non è sempre comunque non viene tutto male capito per questo parlo di un movimento ineducato certo perché alla fine poi vengono comunque cioè sono limitati perché poi finisce lì la carriera hai carriera hai 19 anni le superiori sono finite l'università non l'hai iniziata e non hai mai se non hai sfondato non hai mai studiato in vita tua quindi alla fine cosa ti metti ad andare ad un'università senza aver mai studiato a liceo sì 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 no no queste sono cose che poi appunto possono capitare e magari appunto voi che l'avete avete vissuto anche lo sport nazionale magari tu appunto in un contesto di Juve comunque non era non era molto magari all'acqua di rose cioè era era selettivo magari anche da come cioè come rosa magari come roster non è non hai detto a quell'età lì no cavolo c'erano tre squadre per ogni categoria cioè nel senso no noi avevamo due eh ho capito otto anni dai sì 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 giovani giovani quello sicuramente però piccoli sì piccoli è vero e tant'è che comunque cioè magari quante volte senti dire che ah l'Atalanta ha sfornato lui questo magari iniziano da piccolissimi ma laggiù magari un buon lavoro come quello dell'Atalanta c'è anche dei grandissimi educatori sono sicuro è quello è quello il punto cioè che per quanto tu possesse bravo a insegnarmi la tecnica se ho otto anni è più importante che tu mi prenda di testa no? assolutamente cioè è proprio lì e la chiave sarebbe utopico che anche i genitori fossero in un ambiente dove cioè non è oddio se lui è più bravo di mio figlio è un casino perché poi lui andrà perché sono due attaccanti ma infatti la Juve fa un'altra vabbè in senso io la amo perché sono tifosissimo ora deve difendere cosa fa? non fanno entrare i genitori quindi agli allenamenti e alle partite non fanno andare a vedere i ragazzi quindi è vuoto entrano solo i ragazzi anche nella trasferta sono sotto la responsabilità cioè anche nella squadra avversaria scusa io parlo degli allenamenti e delle partite e anche le partite le partite in casa adesso non so se sia ancora così se tu non sai qualcosa entrano solo i ragazzi quindi non ci sono i genitori che guardano è figo cioè è figo perché ti cambia un po' poi magari appunto è un po' una bolla perché poi alla fine lo stadio ce l'hai quello che ti insulta dallo spalto però magari non è tuo genitore soprattutto hai magari 20 anni quando poi ti prendi i primi insulti sì 17 16 non 8 è una corazza diversa cavolo dai sì 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 assolutamente e poi ragazzi cioè dai lo spogliatoio comunque lo spogliatoio cioè è una non lo so come lo chiamerei cioè è un contesto è un contesto è anche rifugio sì dove tu per anni se hai il privilegio o magari la sfortuna di non cambiare mai squadra per cui stai sempre con i soliti ci cresci proprio cioè si crea proprio un gruppo che nel bene o nel male molte volte hai 15 persone 16 persone tutte diverse l'una con l'altra ecco è proprio lì cioè ci avrai quello che no è più così quello che più cosa e come l'avete tu se tu dovessi guardarti indietro come te lo ricordi il tuo lo spogliatoio il nostro spogliatoio comunque noi siamo stati abbastanza fortunati credo che comunque abbiamo avuto soprattutto anche poi nella fase un pochino più avanzata ecco abbiamo avuto uno spogliatoio seppur composto da persone molto diverse all'interno e composto da persone che alla fine si volevano bene in qualche modo e poi comunque persone diciamo buone esatto quindi fondamentalmente gli allenamenti le partite facevamo una fatica perché non eravamo però arrivavamo nello spogliatoio poi non lo so era una festa esatto c'era quelle classiche dinamiche poi quello che succede no esatto quindi ci sono anche dei non detti che rimarranno però pensa agli anni dell'adolescenza che magari tu cresci e hai il tuo gruppo dei pari a scuola con cui il tuo compagno di banco e poi la tua squadra che è come un per me ha voluto dire tanto è una palestra di Vito sì infatti Vito che è uno dei miei migliori amici abbiamo giocato insieme per me ha voluto dire tanto ci ha fatto tanto legame non so se voi avete creato forti 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 legami mantenuti poi magari nel tempo assolutamente sì anche io ho vari amici avete fatto una squadra sola che avete portato avanti per gli anni oppure poi avete sì in una fase sì che è andata dai 14 a 18 sì è che bello è anche delicata appunto stai crescendo quindi condividi le robe poi per dirti sono uno spogliatoio di uno sport di squadra poi dipende appunto magari che che sport è ma penso che il calcio e il basket sia quasi uguale cioè io ho vissuto per qualche mese della mia vita uno spogliatoio di box per dirti no ok mamma mia ma già non si fanno la doccia insieme no no ho sempre immaginato sta cosa gli sport individuali non si fanno la doccia poi insieme scusami quando andiamo in palestra ad allenarci ci alleniamo ognuno per conto nostro ma poi la doccia io l'ho sempre un po' visto sta cosa non lo dico tanto per far rire c'hanno i box doccia su 5 piani no però tipo ho sempre notato che chi ha fatto sport di squadra fin da piccolo si è abituato a farsi la doccia insieme agli altri e box dici no no adesso non è la box in senso no vabbè era la carina non la mettiamate negli spugliatori no 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 noto magari i ragazzi sono passati alcuni anni però notavo che magari anche compagni di classe che non facessero sport di squadra li vedevo mi dicevano no la doccia la faccio a casa ma io non l'ho notato solo nella doccia l'ho notato anche in tanti aspetti parlo di sempre comunque contesto di gruppo tu dici tu dici cioè se facciamo una calcettata c'è tizio che non ha mai fatto uno sport di squadra è più a disagio nel fare una doccia tutti insieme perché non l'ha mai fatta quello assolutamente ma non è solo per la doccia io penso che lo si ritrova anche su altri tipi di contesti sempre di gruppo cioè io molte volte lo notavo che quella persona lì in particolar modo non aveva non era avvezza all'attività di spogliatoio cioè se uno cresce secondo me facendo uno sport individuale e poi si ritrova in un gruppo invece di gente che è stata straabituata invece a confrontarsi tutti i giorni due ore al giorno con un gruppo ecco la differenza a volte la noti è percettibile poi dipende dalla realtà in cui sì chiaro però è vero però capolo noi siamo stati abituati a prendere insulti le botte insulti nello spogliatoio le abbiamo date le abbiamo prese è di tutto e di più quindi sì sì è diverso da uno sport individuale perché appunto come ti dicevo cioè come dicevo lo spogliatoio di box poi che appunto io ero non l'underdog era proprio non esistevo perché era appena arrivato e lì cioè non l'unismo lì proprio è una roba che c'è c'è il timore ad entrare capito lì dentro e quindi tipo mi ricordo che appunto cioè era una sorta di super spalleggiarsi a vicenda per quanto poi individuale fosse perché lì dentro si ricreava comunque un contesto di squadra perché comunque stavamo condividendo uno sport per quanto individuale sia e per quanto io e te siamo in competizione il spogliatoio cioè siamo tutti insieme capito siamo noi e lì era era bello e tant'è che poi se qualcuno provò a convolgere anche me tipo ehi dai sei tipo la recluta no così però poi io smisi subito smisi subito facciamo vedere come funziona il mondo smisi subito e collegamento il collegamento a questa cosa qua della palestra anche normale cioè non so quante volte andate in una palestra a fare pesi pesistica andate in spogliatoio e sentite quelli amici che si raccontano a voce alta magari spogliandosi sì perché mia moglie sai no e io lì che stai nel tuo noi siamo io e ricchi guarda qua perché nel senso tu senti sti fatti altrui che poi è la solita città quindi guarda che domani potrei incontrarti e c'è tua moglie tu devi immaginare che è alla fine giornata di gente che magari lavora tutto il giorno e ha quell'ora e mezza di evasione e quindi ti lasci andare ma infatti non è che è una cosa sbagliata è più bella uomini sposati che raccontano le avventure capito esatto nel senso sì sì come una fiducia innata dalla serie siamo in spogliatoio cosa c'è che cos'è un spazio franco ma io poi a volte mi ricordo sempre mi rimasto impresso perché le risate teorie su Adamo ed Eva addirittura sentivo tra doccia ma sai è pieno di luminari bravissimo e lì poi lì siamo tutti un po' luminari da carattere uno sta zitto però non può far almeno per osmosi per ascoltare e lì le risate ogni tanto che ti dicevo e la cosa che mi faceva sempre ridere chissà dall'altra parte lo spogliatore o delle donne che cazzo tutto è zitto ma no no c'è rumore Paolo aveva una teoria di cosa parlano le ragazze molto spesso no dicevo che non si sape quello che si dicono perché se no c'è rumore dei phone loro non no vabbè comunque cioè ragazzi veramente questa voglia comunque penso sia vissuto anche da loro nella stessa maniera perché penso lo sport è comune per tutti arrivi insulti fatichi insieme arrivino all'ospedatoio è un momento di stacco dal mondo totale quindi penso sia una cosa naturale ecco sì e poi mi faceva sempre ridere c'è chi arriva ciao ragazzi saluta tutti ciao ragazzi esatto che va bellissimo sì sì ciao ciao alle battute che non sai se ride se farti vedere che ridi oppure finti di nulla stai andando via ma io anche in sala pesi saluta tutti no ma Giulio sai cosa facevamo noi in un periodo ogni giorno salutavamo con un'intonazione diversa ah ma quando non andavamo seriamente lì andavamo per ridere ogni giorno allora il lunedì iscriviamoci in palestra no 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 per andare nello spuglietto era lui era lui era lui era lui il lunedì entravamo salutando ciao 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 spavaldi spavaldi il mercoledì ciao così timidi ok ci divertiva avete fatto uno studio sociale cosa è venuto fuori da io sono un po' particolare sì sì un po' però io lo seguivo l'ho sempre seguito va bene faccio come dici tu ma guarda che è curioso perché magari a volte ti trovi ad andare via ciao ragazzi ciao ciao buona serata sì ciao qualsiasi cosa tipo no ma poi cioè la cosa poi cerco di non fare riferimenti però io vado in una palestra qua a Livorno quando era fattibile e una volta tipo c'era due amici che si sfottevano che uno era cornuto no mi faceva morire morire che uno andò via e fece ciao cornuto che penso che fosse erano amici no che è tipo un gruppo a tre però io vedevo due parlare e c'era un altro come se potessimo essere noi no fa ciao ciao cornuto e tu lì piegato perché se ridi a parte lui magari è un armadio quindi tu sei da l'altra parte che ti pieghi in due e lui è ciao deficiente no così cioè tutte queste cose qua sono fantastiche capito se ci pensi perché in quel momento lì poi magari li incontri per strada ciao cosa mi saluti andiamo in palestra insieme no io non ti conosco arrivo e spesso oh ciao bello come stai è parte della stessa squadra sai che in montagna le persone si salutano molto di più rispetto in città dove l'hai letta per i saluti è vero è vero perché la città è un ah c'è anche la spiazione è un luogo molto più formale rispetto alla montagna che è molto più amichevole se vogliamo quindi nei boschi perché paese tu dici perché sono intendo città le stesse persone della città che vanno in montagna si salutano invece tra ciclisti quindi la montagna è un grosso spogliatore esatto questo è la sintesi che possiamo fare ok perfetto però è vero invece tra ciclisti ci salutiamo ma anche tra motociclisti io in macchina ogni tanto vedo la gente tra podcast cosa ha fatto sta roba perché vedi che fai parte di un qualcosa che vi accomuna la cosa più brutta è buffa noi salutiamo Luis tra podcastisti giusto dovevo fare dei segni però qualcosa del genere fa ridere quando magari tu stai scendendo quindi e l'altro sta facendo fatica allora lo inciti ma tu sei ciclista tipo in senso a me non mi saluta nessuno perché non sono credibile come ciclista ma no ma lui l'hanno messo sopra ma in verità non è un ciclista no no però in verità ci si saluta così sì sì ma anche io vedo anche tra i motociclisti vedo che appunto loro facendo questo penso che sia così non lo so poi non vorrei quale quale questo qui tipo vittorie sì tipo una specie vedo sempre così oppure con la gamba tipo vedo le cose creativissie ti te lo giuro sì 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 però appunto io tra automobilisti non c'è sta roba inventiamo un saluto tra camionisti tra podcastisti come salutiamo gli altri podcasters e non lo so dovremmo fare tipo una roba tipo non lo so delle gesta tipo dovresti trovare tipo delle robe questo tipo due volte non lo so questa roba sta sfociando nel nulla direi di concludere anche perché dovrebbe iniziare la Juve 5 minuti e io adesso mi metto lì gufo piano piano così ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto commentate recensiti su Apple Podcast e come sempre ringraziamo chiunque arrivi a fine video perché non siete in tanti ciao ragazzi ciao a tutti